Ben ritrovati ragazzacci qua sul canale BigTree, gara 1 se ne è portata a casa i Boston Celtics con un quarto quarto veramente eccezionale, ma andiamo a capire quali sono state le chiavi tattiche di questo successo dei Boston Celtics. Sigla! E come sempre di ritorno dalla sigla vi ricordo di aiutarci a crescere, di supportarci, iscrivendovi a questo canale se ancora non l'avete fatto lasciando un like qua sotto e attivando quella starra maledetta campana così ogni nostro nuovo video vi arriverà subito la notifica. Grandi eh? Cosa esattamente non bisogna fare ragazzi quando si difende contro i Golden State Warriors e soprattutto contro Stephen Curry? Semplicissimo, non bisogna fare difesa in drop e sicuramente non bisogna fare una difesa profonda in drop coverage, cosa che invece hanno fatto e passare soprattutto anche dietro ai blocchi, cosa che purtroppo hanno fatto per loro inizialmente i Boston Celtics. Una scelta che francamente io non ho compreso da parte di Udoka, che ritengo essere un grande coach, però questa francamente non me la spiego e questo infatti ha portato a far vincere il primo quarto ai Golden State Warriors e a far fare a Steph Curry, non che ce ne fosse così bisogno di aiutarlo, però sei triple nel primo quarto, andando ad impattare un record appartenuto a Michael Jordan. Ma poi ne impatterà un altro, quello cioè di 21 punti nel primo quarto, sempre record appartenente a Michael Jordan, uno che insomma a basket sapeva giocare diciamo benino. Quindi un primo quarto così, che comunque Boston riesce a rimanere più o meno a contatto grazie a un attacco che fin da subito sembra essere fluido e Golden State comunque comincia a far vedere qualche piccolo segnale di non riuscire a incartare l'attacco Celtics. Infatti poi il secondo quarto si chiuderà con in vantaggio di due punti i Boston Celtics. Poi nel terzo quarto, il famoso terzo quarto, cioè il terreno di caccia dei Golden State Warriors storicamente, quello in cui danno di solito i parziali con cui riescono poi a portarsi a casa le partite, il parziale arriva, vanno sul più 13, però poi cosa succede? Si va a riposo, quarto quarto e lì signori Boston rinasce. Boston rinasce, il quarto quarto si chiuderà con un parziale imbarazzante di 41-16 che infatti faranno vincere ampiamente la partita con un terrificante, ma terrificante iniziale 7 su 7 da tre punti per i bostoniani che avrebbero spezzato chiunque, avrebbero ucciso anche tutti gli Avengers. E da molti ho sentito dire, insomma, prestazione balistica al tiro che poi Boston concluderà con 21 triple realizzate sulle 41 tentate, un numero veramente eccezionale sia per volume che poi per capacità realizzativa. Però queste triple, secondo me, cioè non secondo me, non è tanto irripetibile perché solamente poche, un paio di triple sono state triple forzate, il resto delle triple sono state triple open. E sono state dovute, secondo me, più che a scelte della difesa, cioè di battezzare i giocatori, proprio per via di errori comunicativi. Errori comunicativi che erano stati fatti ad inizio partita anche dai Celtics. Infatti spesso ho visto errori di comunicazione magari tra Smart, Time Lord o Smart, Brown su magari dei raddoppi come su... Cioè, raddoppi che poi in realtà non ci devono essere come su Jordan Poole che poi appunto lasciavano spazio per le triple open di Steph che è una roba folle perché appunto i giocatori dei Celtics passavano dietro i blocchi oppure c'era Williams che stava in drop ma poi ci passiamo a come poi successivamente ha modificato la difesa i Celtics. Ma il loro attacco è quello che secondo me gli ha fatto vincere la partita. Un attacco che è stato molto fluido, che ha saputo trovare un Al Orford che è assolutamente inspiegabile. Sta facendo dei playoff mostruosi, questa partita qua ha fatto 26 punti, il leader realizzativo quindi per questa gara 1 nei Celtics. È stato fondamentale sia in attacco che in difesa. Tante triple per Orford, ottima prestazione balistica, ma ripeto, molte triple messe open. Poi c'è stato Derrick White, un giocatore che sapete bene io amo e avevo detto un po' per il meme quando ci fu la trade che l'ha portato dagli Spurs ai Celtics. Ho detto bene con White, i Celtics vanno all'anello. Chissà, chissà ragazzi. Però White che lui sì ha messo una tripla importantissima e forzatissima, cioè quella che ha concesso il vantaggio ai Celtics, che c'era stata quasi una panfake mi sembra, comunque quella secondo me è veramente una delle poche triple forzate. Uno White che è veramente intelligente, c'è stata una situazione in cui Brown è andato in penetrazione, lui ha finto di andare verso canestro quindi ha fatto arrivare l'aiuto e quindi ha stretto, diciamo, ha portato il suo difensore vicino a Brown che quindi è diventato un raddoppio, ma lui nel frattempo era tornato indietro andando dietro la linea dei tre punti per una tripla open, facile facile. Però quello che secondo me ha fatto veramente una grande partita, oltre a Brown, che prima del quarto quarto è stato lui, l'uomo che li ha tenuti a contatto, è stato Jason Tatum. Vi sembrerà strano che io dica questo, però Jason Tatum ha fatto una prova di un'estrema maturità, ha avuto una serata trevenda, terrificante, orribile al tiro, però ha tenuto un livello di playmaking, ragazzi, tenetevi forte, a livelli CP3. E perché? Perché dico questo? Perché al di là dei 13 assist, che comunque sono un record per un esordiente alle finals, è riuscito a fare quello di cui Boston ha esattamente bisogno, cioè smuovere le difese. Lui è andato tante volte in penetrazione, tante volte ha costretto magari Green, o altri difensori, The Warriors, ad andare in raddoppio su di lui, e poi ha saputo essere molto bravo a trovare con i passaggi i giocatori, i suoi compagni di squadra, liberi sul perimetro. Giocatori liberi sul perimetro che lo sanno fare canestro da tre, perché insomma in questi playoff Boston ci insegna che questi giocatori, questi gregari, comunque il canestro lo vedono molto bene da tre. Un esempio lampante è Richard. Richard è stato molto utile, spesso coinvolto in dei giochi hammer, cioè giochi in cui lui va a occupare la zona, diciamo, di un angolo, e c'è un incrocio con un lungo, che appunto va a creare una sorta di screen, una sorta di blocco, per cercare errori di miscommunication nella difesa avversaria, per appunto concedere un tiro open dall'angolo, che Richard è bravissimo a mettere. Tra l'altro Richard è stato utile anche in difesa, perché è sempre stato in grado di passare sopra i blocchi e di rimanere comunque ai fianchi del palleggiatore, dell'attaccante, infastidendole e arrivando anche a contestare il tiro. E Golden State non è mai riuscita a incartare, come dicevo prima, l'attacco dei Celtics, anche perché questi Celtics potevano sempre attaccare due giocatori in campo, cioè Stephen Curry e Jordan Poole. Li attaccavano sistematicamente sia Brown che Tatum dal palleggio. Perché questo? Perché comunque Curry, nonostante tutti i suoi miglioramenti, rimane ai playoff. Un difensore sicuramente sottodimensionato e anche con delle letture non sempre perfette, per quanto comunque sia un giocatore intelligente. Esempio è una situazione in cui lui non accetta il cambio che gli stava proponendo Iguodala, quindi sono rimasti in due su un giocatore lasciando un altro libro. Ecco, questa situazione a volte si verifica, non so se è perché Curry è comunque uno che cerca sempre di rimanere sull'uomo o comunque di accettare il cambio per dimostrare di non essere un cattivo difensore. Però in delle circostanze comunque a volte è meglio lasciare un difensore migliore su quel tipo di giocatore là e quindi cambiare. Però ecco, Golden State l'ha provato un po' di tutte in difesa. Ha provato anche a fare una zona a un certo punto, soprattutto nel quarto quarto, per cercare di nascondere Poole e Curry. Scelta che è stata punita dalle percentuali da tre di questi Celtics che con quel fantastico 7 su 7 poi si sono accaparrate la partita. Ricordiamo 7 su 7 e di parziale nel quarto quarto 41-16. Mamma mia, mamma mia. E una zona che secondo me non ha funzionato benissimo anche per il fatto che Jordan Poole è un difensore terrificante. Fa veramente schifo Jordan Poole come difensore, ragazzi. Infatti riusciva male a ruotare o extra ruotare sui difensori, sugli attaccanti, scusate. Tra l'altro attaccanti che oltre a saper tirare sanno anche attaccare i closeout come sa fare Grant Williams. Quindi ecco, l'attacco di Boston è stata la chiave. È stato troppo l'attacco in questa gara 1 dei Celtics per questi Warriors. E secondo me queste percentuali sono sì altissime e sì difficilmente ripetibili ma è spiegabile appunto perché molti di queste triple erano triple open. Dall'altro lato l'attacco di Golden State ha funzionato chiaramente bene. Per il primo quarto ha funzionato benissimo. Complice la difesa che poi è stata cambiata, come dicevo, non più drop coverage e passare dietro i blocchi ma passare sopra i blocchi e no drop coverage. Infatti sono stati bravissimi a mantenere sempre una certa ring protection grazie a Time Lord che per non andare diciamo contro ai piccoli di Golden State, che comunque può relativamente tenere qualche palleggio, veniva fatto sapientemente dai Celtics un pre-switch tra Orford e Robert Williams. Un Orford che tutte le volte siamo lì a dire Emma non riuscirà a difendere su giocatore X e invece puntualmente tutte le volte ci smentisce con delle prestazioni difensive che sono veramente incredibili. Riusciva sempre a rimanere con l'uomo, sempre a rimanergli ai fianchi, sempre a contestare il tiro. Veramente dei playoff mostruosi da parte di Orford che dopo tutte quelle partite che ha disputato il playoff 140 circa mi sembra è riuscito ad approdare alle finals e queste finals le vuole vincere in tutti i modi e sta veramente dando l'anima sia in attacco che in difesa. E qui appunto c'è il problema per Golden State in attacco, cioè trovarsi davanti una difesa che può fare heavy switch sempre costantemente espone i limiti che sono quelli espone i limiti dell'attacco di Golden State, cioè quello di non avere giocatori o comunque molti giocatori che riescono a battere l'uomo dal palleggio. Steph è un giocatore meraviglioso, il miglior giocatore sempre off the ball, però se ha un limite è quello di non riuscire sistematicamente a abbattere il proprio uomo dal palleggio, che non vuol dire non creare separazione, attenti, vuol dire non riuscire a batterlo e quindi magari andare dentro in penetrazione e fare degli scarichi. Quello purtroppo non ce l'ha mai avuto, soprattutto ora a questa età non ha quel primo passo fulminante che poteva avere magari un Picarden, per farvi un esempio, e quindi lì si va un po' in difficoltà. E proprio in queste situazioni secondo me sarebbe fondamentale un apporto maggiore di Wiggins, che è l'altro giocatore insieme a Steph che si può creare un tiro per sé o comunque può smuovere le difese e creare qualcosa per i compagni. Ecco vorrei un Wiggins più presente, un Wiggins soprattutto più aggressivo verso il ferro. Chissà perché sicuramente Wiggins dovrebbe essere il giocatore appunto deputato a togliere un po' le castagne dal fuoco di Golden State quando queste situazioni si verificano e secondo me in queste finals si verificheranno spesso. Quindi secondo me Wiggins è fondamentale e però vediamo se reggerà a essere così importante avere così tanto peso specifico oltre che in difesa, soprattutto in attacco. Per arrivare alle conclusioni di questo video l'attacco di Golden State secondo me ha funzionato fino al 103 che poi da 103 sono rimasti fermi praticamente per 4 minuti, non sono più riusciti a segnare. Boston è stata bravissima a far venire fuori quelli che sono i pochi limiti ma ci sono dell'attacco di Golden State. Ragazzi tutte le squadre hanno dei difetti, Golden State ha questo. Dall'altra parte un attacco di Boston fenomenale che ha funzionato benissimo, sono riusciti a costruire tante triple open che poi sono state convertite, però sono state convertite perché erano buoni tiri, di cattivi tiri che mi viene in mente c'è solo quello di Derrick White. Poi se ce ne sono altri insomma correggetemi qua sotto nei commenti. I suggerimenti sono più che ben accetti. Quindi Golden State cosa dovrà fare in gara 2? In gara 2 dovrà cercare delle soluzioni per cercare di rallentare, incartare l'attacco dei Celtics. Secondo me forse ha avuto troppi minuti in campo che Von Looney che spesso andava in difficoltà contro Orford che lo portava fuori dal pitturato spesso e volentieri anche sulla linea dei tre punti e quindi poi creava delle situazioni in cui c'era un giocatore libero dei Celtics sul perimetro e Kevin Looney di conseguenza essendo grosso, essendo comunque un lungo, non riusciva ad andare a fare il closeout. Forse più minuti a Iguodala non lo so perché comunque anche Iguodala è sembrato un bel po' arrugginito, ha fatto qualche errore soprattutto in attacco, anche se poi ha tirato bene, solo 4 tiri però comunque ha tirato il 75% e soprattutto Dremon Green deve alzare drasticamente il suo livello in attacco perché oltre a portare playmaking però l'altra sera ha tirato veramente da cani, tra lui e Tatum hanno fatto un po' a gara a chi faceva più schifo al tiro. Però Green ha fatto anche qualche piccolo errore difensivo creatosi dall'ottimo attacco di Boston che lo costringeva a fare delle scelte difficili, scelte anche estreme, magari raddoppiare, andare quindi in aiuto oppure no, rimanere magari in roaming a fare della rim protection. Ecco Green ha fatto a volte scelte sbagliate. Nota d'onore a Marcus Smart che in questi playoff si sta rivelando un attaccante molto più continuo di quanto la storia passata ci insegna e quindi non è nemmeno più un giocatore battezzabile e riesce bene a smuovere le difese. Anche lui ovviamente non è un playmaker d'elite però difensore mostruoso. Se poi gli abbini anche questa capacità di playmaking aumentata ecco Boston diventa veramente una squadra molto molto pericolosa per questi Golden State Warriors. Soprattutto alla luce del fatto che non hanno giocatori che riescono a battere sistematicamente l'uomo dal palleggio e a crearsi un tiro per se stessi. Quindi traendo proprio le somme attacco di Boston è stato troppo per Golden State. Golden State che ha avuto problemi in attacco a difesa schierata in situazioni di gioco rotto. Vediamo come Steve Kerr riuscirà a fare gli aggiustamenti se riuscirà a risolvere i problemi che ha avuto, se riuscirà a mascherare meglio Curry e Poole in difesa. Stanotte c'è la gara 2 più interessante che mai. I Golden State Warriors sono chiamati assolutamente a vincere per evitare un 2 a 0 tra l'altro in casa che sarebbe pesantissimo. La tavola è apparecchiata e gustiamoci queste finals NBA finché durano. E noi ragazzi ci vediamo come sempre al prossimo video.